Alla Francia come mangiare stasera? Furtata di patate. Furtata di patate? Ora ti spiego come si fa la fruttata di patate. Fingi una patata, ci leva la scorcia su una sciacquatella e le dàci tutte a pezzettini piccoli piccoli, a dadini. Poi fingi una paredda, metti un poco d'olio e poi soffriggere la cottura, forse a cottura di soffriggere le patate. Dopodiché ci metti un po' di sale, un po' di pezzette, due uova e ci sono una ramellatella. Appena l'uova è cotta, te le metti nel piatto, uno a te, uno a me, ci metti una ramellatella e stasera mangiamo. Che ne pensi? Sì! Allora stasera? Furtate le patate! Salutiamo, picciotte! Ciao!